un carissimo buongiorno a tutti quanti voi vogliamo leggere oggi in Giosuè 21 45 di tutte le buone parole che il signore aveva dette alla casa di israele non una cadde a terra tutte si compirono ogni cosa tratto da parole di vita quello che Dio promette mantiene sempre tutto quello che aveva detto a Mosè si compì dall'Egitto all'arrivo alla terra promessa ogni promessa del signore è una certezza che si realizza nella vita di chi crede in lui e ha fede che la sua parola è verità certo non è facile credere in mezzo alle difficoltà quando sembra che il mondo ci crogli addosso quando tutto ci appare oscuro e privo di significato quando non riusciamo a dare un senso alle cose che ci avvengono a tutte quelle circostanze che ci capitano intorno spesso a parole riusciamo a dire di avere fede e di evitarci di Dio ma all'atto pratico si viene meno perché non si vede umanamente una via d'uscita alla nostra situazione in quei momenti solo la nostra fede nel signore può venirci incontro il nostro carattere il nostro modo di essere possono essere un ostacolo alla realizzazione delle promesse di Dio per la nostra vita per ricevere bisogna credere tante volte Gesù durante il suo ministerio del reno disse a chi gli chiedeva qualcosa ti sia fatto secondo la tua fede chiediamo quindi a Dio di accrescerci la fede sapendo che la fede riesce a smuovere le montagne ed è quella fede che ci conduce a lui che Dio vi benedica grazie a tutti grazie a tutti